Mister Battistini, una partita a Ponzacco era una partita difficile, ha trovato un Ponzacco molto aggressivo con un nuovo mister e un nuovo modulo in campo? No, come ha giocato penso a Ponzacco, quindi niente di diverso. Era il Ponzacco che mi aspettavo come formazione, è il Ponzacco che mi aspettavo come partita. Sicuramente abbiamo giocato in un campo non praticabile e questo non ci ha consentito di giocare come volevamo noi sicuramente, quindi mantenere più il possesso palla, cercare più l'ampiezza agli esterni e credo abbiamo perso una partita che era indirizzata sul binario del pareggio in quel punto della partita dove magari Ponzacco ha fatto molto bene nei primi minuti iniziali del primo tempo poi dopo il Foligno è venuto fuori molto pesantemente nella seconda parte del secondo tempo e credo che alla fine eravamo in un momento in cui se qualcuno trovava la giocata vincente come è successo a Ponzacco e poi abbiamo vinto la partita e così è stato ma credo sia stata una partita molto equilibrata. Cosa deve rimproverare sui ragazzi? L'azione del gol abbiamo regalato una punizione che non esiste perché la palla era già uscita abbiamo preso una punizione e una punizione e la conseguente azione è successiva penso che è una squadra che deve lottare a ambire a traguardi importanti deve evitare degli errori del genere e soprattutto deve essere un po' più determinata quando non è possibile giocare un calcio fluido come siamo abituati a fare soprattutto su campi del genere sappiamo che era difficile, sappiamo che sarebbe stata una partita molto difficile perché l'avversario è un avversario importante però ci rimbocchiamo le mani e che ripartiamo. Obiettivo playoff o si guarda ancora al primo posto? Io penso che del primo posto è cambiato poco alla fine di questa giornata noi viviamo la giornata nel senso che abbiamo rifondato la squadra non riperdevamo fuori casa e credo che questo Ponzacco debba esserne contento dal 6 ottobre quando giocavamo con il Gaborrano quindi abbiamo fatto una striscia di 5 vittorie di fila e un pareggio perdere oggi ci dà un po' fastidio però è normale che noi ripartiamo cercando il massimo di questo campionato che per me è equilibratissimo e può ancora dire molto. Rosso, un debutto bagnato con una grande vittoria contro una squadra favorita alla vittoria finale? Sì, diciamo che sono molto soddisfatto perché oggi la squadra ha fatto una grande partita da tutti i punti di vista sia dal punto di vista aggressività, fase di possesso fase di possesso dobbiamo migliorare un po' nel gioco ma a Sprazi si è visto anche un bel gioco l'azione del gol è stata veramente bella quindi diciamo che è un grande debutto, sono contentissimo. Ecco, questo modulo, questo 4-4-2 molto corto che ha fatto tenere bene il campo alla squadra per tutta la partita è un modulo che però lavorerai su questo modulo oppure cambierai in corsa con altre idee che ti porti dietro? Adesso vediamo, io credo che ci sia bisogno di semplificare le cose e non complicarle, questo è il modo migliore per semplificarle questo 4-4-2 secco, mi sembra che la squadra l'abbia retto bene è un modulo facile credo che continueremo così, però magari dopo darsi anche che cambieremo, non lo so Ecco, Poggi Bonzi, Foligno e Gubbio, un trittico di gare contro le tre favorite alla vittoria finale Poggi Bonzi, Vittoria, Foligno e Vittoria morale alto, andiamo a Gubbio Sì, ora noi dobbiamo solamente esultare per questa vittoria i ragazzi hanno morale alle stelle ora con calma ci riposiamo ci ritroviamo martedì e cominciamo a preparare la partita di Gubbio e dobbiamo andarla a fare una grande prestazione i ragazzi lo sanno e speriamo bene Ecco, dopo cinque giorni il tuo arrivo a Ponzacca un bilancio soprattutto sull'ambiente, tifosi, squadra? Diciamo che è stata una bella domenica la squadra, io sapevo che era questa però sai, fino a che non hai le conferme sul campo oggi mi ha dato una grossa conferma che questo è un gran gruppo che non molla mai e questa categoria, come sapete meglio di me c'è bisogno di lottare fino alla fine hanno fatto una partita con un'intensità incredibile non hanno mollato un centimetro, hanno lottato hanno vinto un sacco di contrasti sicuramente ai punti, insomma, meritavamo di vincere noi anche perché, insomma, le azioni migliori le abbiamo create noi loro ci hanno dato fastidio solo su qualche palla nativa che abbiamo sofferto un po', ma niente di che i attaccanti loro non hanno mai toccato palla quindi, insomma, vittoria meritata